Con le Star Games e con la tua partecipazione, come vedi qui c'è dentro? Come ho detto prima di parteciparsi, dopo complimenti a tutti i miei eventi, per questa manifestazione, perché è un bellissimo evento per la domanda e per quanto riguarda la palazza. Ok, e ci vediamo a prestanone. Ciao a tutti.